Così buono che fa anche bene un extra per la ricerca, questo è il titolo di un convegno che verrà al centro L'Olio che si terrà venerdì 6 dicembre a Tiriolo in località Pratora. L'appuntamento è stato presentato nell'istituto De Nobili di Catanzaro che parteciperà all'iniziativa nell'ambito delle attività formative per lo sviluppo della cultura del benessere e dell'educazione alla salute. Dalla bontà dell'olio i ragazzi devono acquisire conoscenze importanti per l'educazione alimentare, tali incontri sono finalizzati a fare capire loro l'importanza della dieta mediterranea, ha detto ai microfoni di RTC la dirigente Mustari. I nostri ragazzi inoltre hanno una sensibilità particolare per la lotta al cancro, tale iniziativa nasce in collaborazione con l'AIRC per la ricerca. È un'occasione che vuole essere importante anche per la formazione, l'educazione alla salute, al benessere, al vivere bene, al mangiare bene. Sì, i ragazzi hanno accolto veramente con entusiasmo questa iniziativa perché finalmente è un qualcosa di diverso riuscire a fare formazione attraverso delle esperienze concrete. Quindi intanto visiteranno questa azienda del territorio che è un'azienda di eccellenza e capiranno i vari processi di lavorazione dell'olio attraverso un percorso di alternanza scuola-lavoro. E poi non soltanto impareranno quali debbono essere le caratteristiche per riconoscere un olio di qualità e quindi il valore anche di una dieta mediterranea che ormai è comprovato essere veramente un elemento di lotta al cancro. Si parlava dell'elemento olio che è sempre presente sulle nostre tavole, la Calabria è conosciuta per la sua produzione, però è un elemento non sempre di qualità sulle nostre tavole. In effetti attraverso questo progetto, attraverso l'opportunità che la Scuola dei Nobili ci ha dato, abbiamo proprio cercato di aiutare i ragazzi ad individuare quando un olio è un olio extravergine, quando effettivamente ha quelle caratteristiche neutrageutiche che lo rendono un prodotto positivo per la nostra salute. E' stata un'idea questa del coinvolgimento dei ragazzi della Scuola dei Nobili che ha avuto una grande valenza sia per noi come azienda, sia per i ragazzi stessi che forse hanno scoperto un modo di guardare all'olio con occhi diversi. I ragazzi sono stati molto recettivi e sensibili alla tematica. L'olio è tutti i giorni presente sulle nostre tavole, ma non sempre è un olio di qualità. L'olio extravergine d'oliva è un olio invece da recenti scoperte dell'Università di Bari, è un olio che riesce anche a proteggere le cellule dal tumore. L'olio extravergine di Bari, è un olio che riesce anche a proteggere le cellule dal tumore.